in che posto ti collochi nella classifica del narcisista patologico di cui sei o pensi di essere innamorato allora ovviamente tutti sanno o in molti sapete se siete state vittime di un narcisista o una narcisista diremmo narcisista per come termine neutro insomma se siete innamorate sapete e siete vittime siete state con questa persona comunque l'avete riconosciuta beh sapete che ogni narcisista patologico che si rispetti ha una fonte primaria di approvvigionamento in questo momento ovviamente non siete se state spensate di essere dei satelliti e perché non siete una fonte primaria fonte primaria è sempre presente in un determinato momento del motivo del narcisista e quindi la persona che chiama tutti i giorni che sente tutti i giorni a cui fallo bombi che chiama amore amore mio se il tesoro che ha con cui fa progetti che poi magari non porterà a termine e poi una serie di fonti secondari che sono utili per l'approvvigionamento emotivo per riempire sempre sto osservatoio e caricarlo di tensione ogni giorno e questi satelliti hanno una diversa collocazione se sei un satellite sicuramente sei una ex del narcisista con il quale stai avendo un rapporto che non si capisce però che non è amicizia ma è come se lo fosse e ti senti cercato puntualmente insomma non ti ha mollata perché dopo lo scarto ti ha fatto una serie di pick up una serie di cucù per dirti che c'è per farti capire che esiste e per attirare la tua attenzione sì ma ogni quanto arrivano i cucù e in base a ogni cucù al tempo in cui si ripetono questi cucù puoi capire più o meno che tipo di satellite sei i satelliti del narcisista vabbè la fonte primaria normalmente solo una però i satelliti possono essere da uno quindi a è la fonte primaria e b è il satellite oppure c'è a come fonte primaria e b c d e sono i satelliti che ha non tutti i satelliti quindi da b a d hanno tutti la stessa importanza perché ci vuole energia per cercare approvvigionamento ok quindi saresti un satellite b quindi che viene subito dopo la fonte primaria se questa il tuo partner narcisista ti contatta magari ogni giorno ogni giorno ti manda un messaggino un video admincham però senza alcun significato oppure ti contatta magari anche telefonicamente un giorno sì un giorno no perché sta facendo questo perché magari la fonte primaria è un po quasi in fase di svilimento e quindi sta cercando di spostare in qualche modo l'attenzione su di te oppure teme di essere scartato dalla fonte primaria perché magari lo sta sgamando lo sta smascherando lo sta mettendo in difficoltà insomma diventata pericolosa la fonte primaria e quindi cerca di spostare l'attenzione su di te e quindi potresti essere la b oppure se ti manda messaggi ogni 23 giorni 12 messaggi non di più e poi sparisce ti chiamo una volta ogni 15 giorni si vuole controllare che sei lì non sei però nella fonte primaria a nella fonte b cioè non ha deciso di ricominciare una relazione con te perché intanto a b e ancora a ok però ci tiene a essere presente nella tua vita ogni 23 giorni comunque sono dei pick up dei cucù comunque non sono pochissimi insomma ecco probabilmente 66 in questa scala oppure se ti manda un messaggio invece alla settimana sei diventata quindi non a non b non c ma ti ok quindi se è ancora se è ancora meno importante degli altri oppure oppure non solo sei meno importante ma addirittura sei molto presente e probabilmente è proprio sicuro al cento per cento di poterti di poterti contattare quando vuole cioè ti considera veramente uno zerbino ecco diciamo la verità e poi c'è l'ultimo magari a b c d abbiamo detto a mettiamoci pure un e e ti chiamo ti mando messaggio una volta ogni 15 giorni cioè sei veramente qualcosa che come dice tudor l'americano si mette su uno scaffale ma ha già preso polvere perché comunque messaggio ogni 15 giorni cioè rischi anche di perderla quella persona però non si sa mai perché è macchiavellico il narcisista dice meglio avere di più che poi ritrovarmi a non avere niente non si sa mai è come un accumulatore insomma è come una persona previdente no che si riempie la casa di detersivi si riempie la casa di latte e lievito e in tempi però che non sono di quarantena ok oppure se sei un satellite d potresti trasformarti trasformarti in un satellite c o addirittura b se comunque sparisci completamente dalla 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 sua esistenza o addirittura sa che ti sei fidanzato fidanzata insomma sa che ti ha proprio perso allora comincerà a spostare l'attenzione a cambiare un po' come il gioco delle delle tre palline il gioco delle tre carte insomma cambiare le carte quindi probabilmente salirà in classifica questo è regolati insomma in base alla alla frequenza dei messaggi che ti manda più è frequente più ha paura di perderti e comunque più è interessato al ripescaccio ciao un bacio a tutti